ciao tesoro ma sono io lo dico ciao tesoro ciao tesoro non l'ho detto io non l'ho detto io ok allora diciamo allora mi servirebbe ampio il fanno cinque cose da non fare da ubriaco ci dobbiamo alzare tu ti devi alzare ci sei tu tutta la tua famiglia in che senso scusa come hai fatto ad alzarti così velocemente fidate di me baby perchè necrofilia in disney vanno ma chi si conosce lei è la mia signora allora io allora e questo i red sox non vinceranno mai le board series lei è la mia signora ma chi ti conosce anche a te che zitto testa ti fa cosci ma chi sono questi due non dire parolaccio e chiama la polizia ma chi sono io allora allora non guardarmi così mai e camminiamo allora cammini non guardarmi in quel ma allora non guardarmi tu ci sei non io io non c'è il terreno ho due piedi è fantastico allora ascoltami guesda di merda testa di culo lei lei allora pronto ahahah tu fermai me lo ricordo al contrario non stressarti per lei amico amico tu mi vuoi bene non so se vuoi dire una cosa io mi odio a tutti i quali dov'è Fabricio si chiamava Fabricio Fabio Marco Alberto Alberto dove sei no scusate allora ci vuole decenza nella vita rispondiamo al telefono sta squillando è il mio aspetta che arrivo no mi è venuta un'idea voglio iscrivere al mio ex cavallo no al mio ex non ce l'ho arrivato in tempo niente allora io allora ho trovato una scogliera non buttarti in mare così oh ok niente come ho detto se è se è lo sanno tutti che i cavalli sono delle persone orribili scrivigli che ti manca tanto eh che ti manca il suo pennarello tu sei solo un rimbambito non dovevi guardarti quel cavallo a giondolo chiamo la polizia ma io non ho capito con chi stai parlando quello che tu apposte sei sei divertente ma non fai ridere un ignoro rotto tu sei un io io sono un porco perché l'ho guardata però non ti do il diritto di dirmi le cose l'ha detto l'ha sentito che l'ha detto almeno le ammetti le cose no allora gli devo scrivere tu sei l'assenzio nella mia vita credere che te la ricavi così tardi prestato c'è stato solo un bacetto sul capezzolo adesso eh allora adesso io vado qui e lo vado così ehi tu faccia di maiale e io adesso vado col primo che capita ciao tanti cari saluti non mi interessa quello è uno per cui le tigate vieni qui chiappette dolci bla 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 be 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 gg d'agostino 1999 vieni a mamma che ti cambio il panorino allora metti una metti un braccio qui allora dai metti il braccio qui e infila beh non vuoi infilare a mamma che ti è successo? eh bambola ti voglio bene piacere io mi chiamo tiziano calcola che ti voglio un mondo di be... da quando è che ho un altro figlio? io faccio il rapper nella vita baby ti voglio bene mettiti anche tu il pannolino ma sei da sola in questo momento? no no sono in compagnia grazie grazie ma in questo momento tu sei con me bambola no fida ci sono in comp... grazie grazie gentilissima bebi io ti parlo con il cuore ehm ti posso scrivere una canzone d'amore no lo faccio perchè tu sei migliore con me grazie grazie veramente troppo gentile e ti voglio bene ti voglio bene ti voglio ti voglio tanto bene ma lo sei pure te che ti piace? no guarda gentile non la conosco signore grazie oh 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 eh boh eh fuori c'è andata eh eh no mi piace è un bel caratteraccio bellissima com'è che io si chiude qua? ehm 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 campione del mondo sono bella che bombata ma quando ma che per carità tu non mi passi vero? per te sei mente ehm ah primo colpo sono milleram ma stia mio quanto sa qua ma eh signore la tua tipa l'ha capito con un mazzo di peroni ma c'è la colla ma che cos'è? a noi due ah no baby da questo è mio telefono prego tu stasera sei mia io volevo solo dire che se provassi a volare caderei oh è semplice basta tenere ferma la mano ah senti non mi convince va bene ok se lo dice no cazzo ho fatto una scala tutta là dietro c'è anche un servizio eh 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 si resta una macchia ah ahah non fa niente oh 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 tadaaa mi ando le stampelle mi parto le pielle ma non c'è niente da fa' a piedi a casa dei pirini oh no non so perché mi piacciono le macchie delle mucche quelle eh non credo di aver mai bevuto così tanta acqua in tutta la mia vita un giorno lo incontrai e ho chiesto ma chi sei? lui mi dice sono quello nuovo voglio fare il dj amico sei in diretta sei tu che fa la radio la gente che ti ascolta è più di quella di uno stadio non ti vedono in faccia non sapranno chi sei ma continui a questa strada se vuoi fare il dj mazzi direi che sei un rapper non vedo nero nei tuoi è finita è finita ahahah il mondo intorno a me sta cambiando adesso ho paura mi è arrivato un messaggio ciao cameraman ahahah divertente ahahah e quindi niente tesori questo era il video spero tanto che vi sia piaciuto so che era da matti e mi raccomando mi raccomando non bevete noi per fare questo video non abbiamo toccato nemmeno un goccio quindi niente tesori spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi ringraziamo il signorino prio 3d bella il signorino jesso joe soppi cioppi il signorino flay cacca e quindi io ringrazio i miei 3 ometti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao mi piace se non lo corre non lo fate iscriviti al canale ciao